Un nuovo overdrive in regalo da parte di Supercell per noi. Ciao a tutti amici e ben ritrovati sul nostro canale. Prima del Brawl Talk hanno iniziato a girare strane immagini sui social media inerente ad un puzzle da risolvere che sinceramente non siamo riusciti a seguire ma in qualche modo è stato risolto e con il Quark Code come premio c'è un overdrive da riscattare come potete vedere dal profilo ufficiale di Brawl Stars. In questo periodo tra l'altro ce ne stanno regalando un sacco perché un altro overdrive ci verrà regalato guardando le finali dei mondiali di Brawl Stars che saranno l'1, il 2 e il 3 novembre. Come potete vedere direttamente dal sito eventsupercell.com Probabilmente ce ne sta regalando tanti perché entro metà del 2025 hanno dichiarato che vogliono far uscire tutti gli overdrive quindi probabilmente nei mesi successivi gli overdrive passeranno da 6 a un numero maggiore essendo che dovranno coprire tutti gli 84 brawler usciti attualmente e tutti quelli che arriveranno entro giugno che saranno ancora 8 portando a 92 brawler in totale. Non so voi ma noi siamo molto felici di ricevere questo tipo di premi che ci fanno risparmiare ben 5.000 monete ma prima di dirvi come riscattare l'overdrive facciamo una mini challenge vi dico come farlo se riusciamo a vincere una partita su brawlavoro con Kenji Kenji ce l'ho a coppe abbastanza basse quindi dovrebbe essere facile riuscire a vincere la partita ma non si sa mai andiamo a vedere se riusciamo a farcela sembrerebbe che c'è già un AFK e quindi ci portiamo già a casa il primo punto facilissimo vediamo se riusciamo subito a fare un altro punto spero che ci sia qualcuno in base ok abbiamo poca vita aspettiamo un attimo qua recuperiamo vita adesso proviamo a pushare non basta ancora dobbiamo pulire di più attenzione Angelo qua ok puliti tutti ragazzi occhio che sta andando giù la palla GG abbiamo vinto 2 a 0 giocando anche abbastanza male ma ciò che importa adesso è darvi l'overdrive e farvelo riscattare anche a voi ci apriamo anche lo star drop di oggi epico attenzione ok un ottimo spray secondo star drop di oggi 50 monete benissimo vi ricordo tra l'altro che abbiamo attivo fino a fine evento che sarà il 31 ottobre doppia star drop giornaliera che non è decisamente male e molto probabilmente sbloccheremo le 10 casse rip intorno al 30-31 ottobre se continuiamo così all'interno dell'evento come potete vedere io ho già riscattato il mio overdrive se vuoi prenderlo anche tu tutto quello che devi fare è premere nel link che trovi in descrizione di questo video commenta con quale overdrive hai trovato spero che questo video ti sia stato utile perciò se non lo fai ancora seguici lascia un bel pollicione in su mandalo ad un tuo amico così glielo fai riscattare anche lui qui sotto ti lasciamo il video dove poter riscattare un'immagine profilo dell'evento di novembre Angeli contro Demoni se non l'hai ancora fatto nel quale potrai partecipare anche all'estrazione della skin di Maxine Angelo noi ci vediamo in un prossimo video e via